Giorgio, io direi di partire con una notizia che ha una rilevanza anche non solo locale ma anche nazionale riguardo un bergamasco che ben si è comportato in Toscano. Sì, direi nazionale ed internazionale. È cominciato ieri il Toscana Terre di Ciclismo, prova di Coppa delle Nazioni Under 23 ed è subito cominciata bene per l'Italia grazie alla vittoria del bergamasco Enrico Barbin che allo sprint con i tre compagni di fuga, lo vediamo qui nelle immagini, ha battuto appunto il Cataco, Lutsenko e lo sloveno Tratnik aggiudicandosi appunto la prima tappa di questa corsa internazionale. Per il 22enne di Oso Sotto si tratta del secondo successo stagionale dopo la vittoria nella piccola Sanremo e questo sembra davvero che possa essere l'anno giusto per lui. Sì, davvero, intanto rivediamo al rallentatore la bella volata di Barbin ha vinto davvero nettamente con 3-4 biciclette di vantaggio, davvero molto bravo Barbin.